Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma nella prima epistola di Giovanni quanto segue e noi abbiamo veduto e testimoniato che il Padre ha mandato il figliolo per essere il Salvatore del mondo. Chi ha scritto queste parole è Giovanni, uno dei dodici apostoli del Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Sì, perché il Figlio che il Padre ha mandato nel mondo per essere il Salvatore del mondo è Gesù Cristo. Dunque il Padre, chi è il Padre? Il Padre è il Creatore dei Cieli, della Terra, del Mare e di tutto ciò che è in essi. È l'Idio d'Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe, cioè di Israele. E egli promise a Bantico, per bocca dei suoi profeti, di mandare il suo unto, il suo figliolo, per salvare i peccatori dai loro peccati. Chi è il peccatore? Il peccatore è colui che ha peccato, che ha violato la legge di Dio perché il peccato è la violazione della legge e ne è schiavo, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Quindi i peccatori sono coloro che sono schiavi del peccato. Ebbene, il Padre ha mandato il suo figliolo, Gesù Cristo, nel mondo per salvare i peccatori dai loro peccati. Quindi per liberarli dai loro peccati. Per questa ragione Gesù Cristo è venuto nel mondo. E dunque quelle predizioni che il Padre aveva fatto tramite i suoi profeti le mandò ad effetto in Gesù Cristo. Ecco perché affermiamo che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Perché quello che Dio aveva preannunziato di fare, e poi lo ha mandato ad effetto in Gesù Cristo, affinché provvedesse per mezzo di Gesù la salvezza. Dunque la salvezza l'ha provveduta il Signore Gesù, mediante la sua morte e la sua resurrezione. Ecco perché la salvezza è per grazia, mediante la fede. Chi crede in Lui viene salvato dai suoi peccati. La salvezza dunque non è in virtù d'opere affinché nessuno si glorie. La salvezza è per grazia. Tu quindi che sei sotto il peccato, cosa devi fare per essere salvato? Ti devi ravvedere e credere che Gesù di Nazareth è l'unto, cioè il Cristo che il Dio aveva abbantico, promesso di mandare, nel quale ha adempiuto le sue promesse. Perché Egli è morto per i nostri peccati. Egli è risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione. Dunque questo è il lieto annunzio che ti proclamo da parte di Dio, che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio. E dunque vada bene a quello che farai dopo aver ascoltato questo messaggio. Perché se ti farai beffe di questo messaggio e lo rigetterai, sappi che l'ira di Dio resterà sopra di te. Quando morirai, morirai nei tuoi peccati e te ne andrai all'inferno. L'inferno è un luogo di tormento dove appunto arde un fuoco e dove le anime di quelli che vi si trovano sono tormentate. È là che stai andando ed è là che andrai. Se rifiuterai di credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, perché Gesù l'ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. Ma se crederai appunto nell'Evangelo, sarai salvato dai tuoi peccati, sarai giustificato, sarai perdonato, sarai riconciliato con Dio ed otterrai la vita eterna e quindi avrai la certezza che quando morirai nel Signore ti dipartirai dal corpo ed andrai ad abitare con il Signore nel Regno dei Cieli perché è là che vengono salvati coloro che mantengono, servono la fede fino alla fine. Che farai dunque? Io ti ho mostrato la via della salvezza che è una sola perché uno solo è il Salvatore. Il Salvatore è Gesù Cristo, ricordalo. Il Salvatore del mondo è Gesù Cristo. Non è uno dei tanti salvatori come se ce ne fossero più di uno, ma è l'unico Salvatore. Infatti in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Dunque, tu che sei sotto il peccato, ravvediti e credi nell'Evangelo della grazia di Dio e Dio avrà misericordia di te, ti perdonerà, cancellerà tutti i tuoi peccati e nascerai di nuovo. Diventerai un figliolo di Dio lavato nel sangue prezioso di Gesù Cristo. Sarai cosparso del sangue prezioso di Gesù e camminerai tutti i giorni della tua vita nella pace e nella certezza appunto della vita eterna. Quindi non indugiare, affrettati, ravvediti e credi nell'Evangelo. Ricordati, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, dal giudeo prima e poi dal greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Non c'è altra via per essere salvati. Per essere salvato devi credere nell'Evangelo. Nell'Evangelo. E ti ricordo per l'ennesima volta in che cosa consiste la buona novella, cioè l'Evangelo, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo. Credendo in esso tu sarai salvato, te lo assicuro, perché questo è quello che dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, la parola di verità. Quindi, ravvediti e credi nell'Evangelo del Signore Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Che ha orecchi da udire, oda. Grazie. 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 Grazie.